Nel video di oggi affronteremo un argomento davvero delicato, le gravi condizioni di salute di Kate Middleton e il preoccupante calo di peso che ha subito di recente. Prima di proseguire, ti invitiamo a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per restare aggiornato con i nostri prossimi video e tutte le ultime notizie. Nelle ultime ore, è stato rivelato che la principessa Kate ha perso oltre 15 kg a causa della chemioterapia preventiva, diventando quasi irriconoscibile e ritirandosi dalla vita pubblica. Kensington Palace ha confermato che la Middleton sta combattendo contro un tumore e che il suo percorso di guarigione sarà lungo. I trattamenti le stanno causando effetti collaterali debilitanti come nausea, stanchezza, perdita di capelli e di peso. Nonostante queste difficoltà, la principessa sta cercando di mantenere un atteggiamento positivo, soprattutto davanti ai suoi figli, cercando di non farli preoccupare per la sua salute. Fonti vicine alla famiglia la descrivono come una vera guerriera per la sua determinazione e forza d'animo. Kate ha chiesto rispetto e privacy durante questo periodo difficile, esprimendo gratitudine per i messaggi di affetto ricevuti. Il principe William e tutta la famiglia reale sono profondamente preoccupati per le sue condizioni. La drastica perdita di peso e gli effetti visibili della chemioterapia hanno avuto un impatto significativo sulla sua salute e apparenza. Per garantire un ambiente sereno e favorevole alla sua guarigione, è stata introdotta una regola ferrea a casa, non è permesso urlare. Nonostante la situazione difficile, la principessa continua a mostrarsi forte e determinata a superare questa battaglia, con il sostegno fondamentale della sua famiglia. I media hanno intensificato le speculazioni sulla salute di Kate, con varie teorie circolanti, tutte concordi sulla gravità della situazione e sulla sua lotta continua contro la malattia. Kate Middleton rimane una figura di grande ispirazione per molti, dimostrando forza e coraggio in una delle sfide più difficili della sua vita.